Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video Allora, oggi non siamo in un video qualsiasi ma in un video che volevo fare da tantissimo tempo su una cosa super bella che adesso capirete e mi serve l'aiuto in realtà di questo bello naccione qui perché che altro farei fare a Caio questa cosa sarà parecchio complicato e Lara non sa nulla però fatto sta non sarà assolutamente facile ho preso tutto abbiamo una tintura atossica vegan per anche i neonati sì esatto, per neonati fatta apposta per queste cose esatto no, è una tinta e una tela gigante ma ci facciamo anche per questo ora capirai che cosa stiamo per andare a fare, Lara ed è una cosa veramente bella perché dobbiamo mettere sopra le mani e sopra il quadro ma non solo noi lo facciamo anche con i cani metteremo sopra il quadro tutte le nostre torre anche Reggio assolutamente sì ok just do it noi iniziamo dalla mano di mamma prima iniziamo dalle vostre mani io e papà siamo gli ultimi a fare anche i cani il primo è Caio perché è più complicato oddio quanto è bella è una tela amore mio che bella e ovviamente possiamo usare questo oh mamma è gigante è una tela migano antitossica no, questa è la tela normale però amore dobbiamo prendere una decisione io, da dove sono l'artista che ha ideato tutto questo voglio fare la tela per così tu la vorresti fare per così? perché io preferisco così io la preferisco per verticale anche tu? sì sì possiamo fare come sopra big boys allora scegliamo io lo farei tipo tutto quanto e manina e piedino delle bambine anche il mio piede? sì e il noi invece sotto la mano Thor, Caio non vuole essere tuo amico oggi oh pela addio oh no, no, no ok? ok Caio scusami sei pronto? ti amo tantissimo Caio vai vai, vai, vai preciso no, Caio oddio dimmi che è la morte prova a rifarlo qua prova a farlo bene fanno camminare qua sopra dai Caio vieni vieni qua ah 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 Caio vieni qua tieniti in questa mano più o meno come se non fosse mai guarda che quella lì quella lì è buona mi tengo vabbè ma ora ci riprovo a farla io non demordo io continuo a non demordere ma quella mi piace sì non è male però la vorrei un po' di più Caio hai capito che non è nulla hai capito io gli manzo il ledigino aspetta 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 siiii questo va meglio stavo dicendo che ora Thor lo prendiamo in braccia ma è ovvio ma Thor e Ash ci mettiamo la metà spero Thor vieni da Top Van che adesso facciamo te perché ho capito già che i canni saranno il problema principale oggi andiamo con Thor sapete che mi aiuto con questo per metterlo salve perché non l'hai fatto prima te? si ok oddio un altro bimbo a cui non piace stare fermo tiè guarda che piedino l'altro bimbo è pure il più grosso di quello di Gaio mi sa che è più grande di quello di Gaio lo sai? ma il grosso è fermo eh perché tu hai un cucciolone siiii che bello zampone prendi un po' meno si oh che bello vai sei libero eh si ormai facciamo due tutti quanti eh si Ash manca e vengi 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 qua scherzo di un cane guardalo guardalo che carino amore mio amore mio quanto sei piccolino mamma no tanto è super lavabile la doccia quotidiana ah è così così ho preso 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 i dentini oh che bella guarda siiii ahahahah è stata bellissima ok let's go con Zoe ma mano e piedi a Zoe si pure a te yeeey oh oh bello eh tanto ma ci gioca fagliela aprire però ahahah ma come gliela fagliela aprire? ahahah se la sta no devi mettergli un dito qua sopra per aprirgliela capito? interessant ce l'ho un dito qua sopra? ahahah ah no la devi aprire vai bravissimo vai no ahahah aspetta sta stringendo attenta a non rovinarmi quelli di sotto siiii non è no prova a farlo qua Zoe tocca eh l'hai fatta a scivolare aspetta riproviamo Zoe apri mano aspetta manina apri manina aspetta cavolo ci sono quasi riuscita ahahah puk 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 ancora puk che carino puk ahahah che carino ahahah che carino tieni questi sai che ti dico? sei che ti dico? si puliamo piedino che bello uompa non fare così così leggera yes ok ok Nooo Ok Vieni però mi fa il solerico piano Mi fa il solerico Faccia piano Piano Inutile dirti non camminare per terra per un attimo eh Bando per 3 3 2 1 Ok Aspetta ne facciamo anche un altro Sotto vicino alla mano Qua Qua No la altra parte Qua Qua Vado con quello con l'anello Cerco di stampare l'anello Eh anch'io lo sto cercando di fare Per questo ho detto questa mano qui eh Eh si Col bacchio una Yes Faccio una seconda Che Guarda Facci un'altra manata Giulio Faccio per così Va così Va bravo Circolare Fortissimo Ma come faccio a fare le tartarughe Vendimi bene l'anello No 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 Per venire meglio non deve essere troppo Ok No Che bella Qui Qui Yes L'adoro Oddio L'adoro L'adoro E' bellissima No No Non te lo do il 5 Facciamo a turno per lavarci le mani e poi aspettiamo che arriva Reginald per farlo anche a Reginald No Questa sapremo noi che sono le tartarughe Questo schiripazzo Eh Questi suoi schiripizi sono le tartarughe Ma che state facendo tu e papà Baby Questo è l'inizio del quadro Ma adesso manca Sì questi li abbiamo fatti per le tartarughe Adesso manca solo Reginald e poi ci siamo tutti Sì E i prossimi 3 animali E i prossimi figli Vabbè Struzzo Soala L'ultimo panda rimasto sulla faccia della terra Ho fatto il suo bacione Uno dei cari di Reginald Oh che carina Oddio È un gatto Grazie Regi Oddio Oddio che bello Amore Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo Guarda che bello Sono piccoline Sembra quella che hai fatto per le tartarughe Vedi E Regi quello Questo è questo Questo è l'aggiù Che siamo? L'adoro È bellissimo Segniamo È il quadro più bello che abbiamo in casa Perché siamo noi Lo amo Che bello Flli Sì Sì